Il cuore di Maria Santissima è un cuore materno, ripieno di ogni grazia. Di risorse di amore per gli uomini, instancabile nell'animare alla fede più ardente, alla speranza che non crolla, alla carità che tutto sperimenta, per arrivare al cuore dei figli e unirli al cuore del suo Gesù. Ascoltarla, seguirla, rimanerle sempre vicino e il modo migliore per maturare nel suo cuore immacolato la propria vocazione di portatori di Cristo a favore dell'umanità. Dio non è un Signore distante che abita solitario ai cieli, ma l'amore incarnato, nato come noi da una madre per essere fratello di ciascuno, per essere vicino, il Dio dell'avvicinanza. sta sulle ginocchia di sua madre, che è anche nostra madre, e da lì riversa sull'umanità una tenerezza nuova. E noi capiamo meglio l'amore divino, che è paterno e materno, come quello di una madre, che non smette di credere nei figli e mai li abbandona. Così sia. Amen.